In tre minuti ho preparato la maionese Siete che la carne mi sa Siete che sto mangiando il nipote mio Facete il pollo voi che vi è consolato Siete lì, è buon'ora Siete lì, è buon'ora Che stai facendo? Siete sapere che sto facendo Eh sì, tutto questo ingrediente Ma te lo dico subito Il nipote mio ha fatto anche il barattere E il maionese E lo metterò a tutta parte Ho fatto provare a fare lì Allora sappiamo quello che c'erano Che quello fa male Eh, sapevo fare il maionese E se sei nato lo voglio fare Ho preparato già l'uovo E mettiamo l'uovo C'è un po' di ciò C'è un po' di ciò Quattro limone Metà da metà Ecco qua Alla me è tutta roba genuina Priceriamo, capito? Eh sì E' un po' di maionese Senza conservanti Senza conservanti Ma quello che si mangia, si mangia Adesso posso mangiare Con cucchiaino Ma poi secondo me è più un altro sapore E' più buono pure, secondo me Poi vediamo E poi vediamo C'è un po' di olio extravergine Quanto basta? Giusto per fare lo sapore Sì Un cucchiaio Ecco qua Di olio extravergine Tre cucchiai di aceto Aceto bianco? Aceto bianco Però va bene Quasi aceto Quello che tu tieni Quello che ti metti Quello che ti metti Poi vediamo l'aceto bianco E mettiamo l'aceto bianco L'olio di semi Mettiamo Quello che basta Mi resta tre volte all'uovo Guarda Tre volte a livello che abbiamo già raggiunto Ecco qua E ora lo frullam Lo andiamo a montare A frullam Lo andiamo a montare Eccoci qua Ecco qua Andiamo a montare Ecco qua Di città 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 Ma Non No È No Di città In Il Trigato Il Il 2 minuti e fai con te ne va giù e che si può fare maionese? e soprattutto sapevano che si mangiano e poi sappiamo che lo mettiamo, non sappiamo l'ora che mettiamo guarda che a me è molto bello, maionese, guarda, è bellissimo, era o no? guarda qua, guarda e la andiamo a versare in un contenitore? si, si, che troppo, capite? quando prendo un cucchiaino si mettono il corpo a mangiare ora ti faccio vedere come è molto bello ok, ora ce l'ho fatta, in 3 minuti ho preparato la maionese, sapevano che la carne è messa in, sapevano che stiamo mangiando il potenino ora proviamo come è venuto e ti faccio sapere come è venuto, in 3 minuti ho già buttato in mmm, buonissimo, guarda, facete il burro voi che è consulato